Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars Oggi sono veramente euforico, come disse il saggio un tempo Perché ragazzi, è il giorno del rilascio di Brawl Stars in tutto il mondo Se non è ancora uscito, uscirà tra un'ora, tra dieci minuti, non lo so onestamente Il rilascio è previsto per oggi, se non esce, è un big troll per il mondo Ma io oggi ho il mio bel da fare perché come promesso, ormai la gente veramente me lo chiede in tutti i video Devo aprire questi 125 Brawl Box Premettiamo quindi subito che, uno, è una cosa che non ha senso tenersi tutti i Brawl Box da parte È una cosa che genericamente fanno quelli maxati, completamente maxati Per riuscire a sbloccare il nuovo Brawler che ipoteticamente uscirà prima possibile E, seconda cosa, aprirò questi 125 Brawl Box senza guardare tanto le allodole Dovrò marciare parecchio perché sono veramente tanti Quindi, pigliamoci i nostri ticket, facciamo un giretto come al solito Ok, qua c'è il clan I Brawler da upgradare per adesso sono due Qua abbiamo le nuove modalità che magari ci fanno fare ancora qualche bauletto Sì, un bauletto in più che tanto ci sta E signori, siamo pronti Wow! Sono casatissimo Poi, ovviamente, se troviamo qualche Brawler nuovo Abbiamo anche qua un paio di ricompense extra da prendere Per metterci dei PowerPoint subito sopra Però, ragazzi, io direi che potete mettere un bel pollicione E adesso vedrete una cosa molto rara Un video di Ferre con pochi tagli Ok, siete pronti da questo momento? Caro Ferre che stai editando il video, smetti di tagliare Perché qua si va, si parte Ok, vai, primo Brawl Box Tra l'altro sono nuovi, un design che non sono neanche ancora abituato a vedere Pambo e gemme Ok, ovviamente non posso dire tutti i Brawler che trovo Ok, Pam di nuovo Ok, vediamo il prossimo Ragazzi, vi giuro Mi fa stranissimo Tutti questi Brawl Box Potrebbe uscire teoricamente in ogni box Un nuovo Brawler E quindi sono abbastanza Abbastanza teso Sono abbastanza teso Ok Loro, ovviamente, arriverà a Palate Ok, ragazzi Oh wow Che roba fantastica, vi giuro Mamma mia E come dare il benvenuto sulla community di YouTube A questo gioco con un contenuto del genere Un box opening della Madò Ok Dynamike Un nuovo Dynamike Che è sempre mio nonno Ok Adesso ancora nessuna novità Relativamente Solo due Brawler da upgradare Dynamike e Pam Ok, ci sta Ma siamo ancora agli inizi Non siamo neanche arrivati a 100 Perché in realtà sono 126 I Brawl Box Che dobbiamo aprire Sì, perché abbiamo sforato leggermente Le tempistiche Come avete potuto notare Nel corso degli episodi Delle live Ok Ragazzi, veramente Quanta roba stiamo trovando Mamma mia Che è una godura in questo momento Ve lo giuro Ok Però nuovi Brawler Nuovi Brawler ancora non ce ne stanno Calcoliamo che La rarità comunque sia appunto C'è E quindi non Le probabilità sono contro di noi Diciamola così Però Alla peggio Mi livello come un matto Mi sta bene anche livellarmi come un matto Non è che mi dispiace Infatti Diciamo che da questo video in poi Oh No Non ci credo Non ci credo Non ci credo Franco Sei arrivato Franco finalmente Quanto tempo che ti stavo aspettando Stavo giusto dicendo Che da oggi in poi Il nostro account cambierà per sempre E ho appena sbloccato Il mio Brawler preferito Capite la reaction Vi prego Capite la reaction Signori Cioè Quante possibilità c'erano Di trovare esattamente Il mio Brawler preferito Cioè Wow Teoricamente ci sono altri 5 Brawler Che potevano uscire anziché lui E 3 di questi sono leggendari Vabbè ok Diciamo che le probabilità un pochettino C'erano di trovare Franco Però Quanto sei bello Franco Ti ho subito selezionato Perché oggi Giocherò almeno una partita con te Prima di chiudere Dai ma ricominciamo Perché qua Franco Che bello trovare Franco Ok Ehi Ehi Che cos'era quella La gattina Bull Manco il gioco ci crede A quello che sto facendo Ok Che poi adesso mi bannano Ok Ok 15 6 10 Numeri per la lotteria Se volete Ok E un po' 50 di oro Tanta roba King scusa ma sono un attimo impegnato Ok Buona così Vai Eh Sì loro Diciamo che Ce lo danno veramente col contagocce Altri ticket Perché Perché Dai Dai 30 di oro Ok Buono Ok Gemme Buono E anche le gemme Mica da sputarci sopra Tutte quelle gemme Ok Buona Così siamo 93 ragazzi Ma qua mi sa che sia avanti Per tanto Mi sa che sto video qua Sarà qualcosa di Molto Molto Lungo No ok Scusate Non ho resistito Ho dovuto fare un taglio Perché è più forte di me Mi escono dei doppi sensi Da far paura Ogni tanto 15 di oro 15 di oro Dai la mech per 6 Dai ripartiamo Ok Cioè Ragazzi È assurdo Ogni volta che mi rifa vedere la mia schermata di gioco c'è più oro Ogni tanto ci sono più gemme I bauletti sono ancora un bordello Dai Escemi un altro brawler So che Si può fare A parte Franco Che veramente Mi sa che dopo Me lo vado a livellare come un matto Ok Vai Buono 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 Mamma mia ragazzi Ovviamente in questo video Non apriremo i brawl box Perché Scusate I big box Perché Per i big box Facciamo una sorta di mini serie Sul canale apposta E Al prossimo giro Cosa dobbiamo aprirne? Tipo 7 o 8 Una affare così 9 Non lo so Ogni volta andiamo ad aprire Un big box in più Per chi non lo sapesse Ok Mamma mia raga Mamma mia Ormai c'ho i suoni C'ho i suoni Loop Nel cervello Wow 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 Quanti brawler ho da livellare Scusate Piccola pausa 9 brawler da livellare Ok Devo accelerare Perché sono solamente 70 Raga Cioè E' veramente dura Qua Cioè seriamente Guardate il mio dito Guardate il mio dito Nell'inquadratura Oh mio dio Ok Vai Esci mi il brawler Esci mi un brawler Dai Su So che ce la puoi fare Mi stanno uscendo fuori Un sacco di frank Che bella cosa Che bella cosa Ok Ok Un mortis tipo Che mi manca O un daryl Che mi manca ancora Ok Oh mamma mia Oh ragazzi Quanti Siamo già a 50 Abbiamo accelerato il ritmo di brutto Ok Ok E lagga Mannaggia te 70 di oro Sono veramente tanti 70 di oro Ok Ok Vai Altre 50 Brawl box Signori Mamma mia E' faticoso Ma l'ha il polpastrello Vi giuro Ok Adesso capite Perché ho ottenuto Tutti questi brawl box Da parte Per avere un'esperienza Unica Una roba che Manchi peggio sciopponi Potranno mai fare Vabbè Forse i peggio sciopponi Si Però questa cosa È una roba Che non si può comprare Vi ricordo Una cosa che si ottiene Solo col duro Lavoro E sudore E fatica Ok Ok 25 Ho visto 25 Enrico Cioè Ci sono veramente tanti Buona 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 Ok E poi Tutto sto oro Quanto ne abbiamo di oro 1900 Wow 1900 1900 di oro Attenzione signori Mortis Eccolo qui Eccolo qui Ultimo bruner mistico Per noi Mortis Eccolo qui Dov'è Eccolo qui Mortis Che bello che sei Non vedo l'ora di sbloccarti Cioè io posso già usare Mortis col cappello L'hanno messo in regalo Seriamente Sì La skin di mortis Col cappello in regalo Magigi Che figata Allora ci mancano Tutti i brawler leggendari E ovviamente Beryl Ah no in inglese si chiama ancora Daryl Allora chiamiamolo Daryl Sì nel frattempo mi sono rimesso a fare tagli Io come videomaker ho bisogno di fare tagli Mi piacciono i video veloci Ok Infatti sto soffrendo Ad aprire tutti questi brawler E una clip unica E un'esperienza mistica Anche a livello di Content creator Ragazzi Ok cinque gemme Sono tantissime Ok vai Vai avanti Tirami fuori un leggendario Dai so che ce la puoi fare Oppure Daryl Daryl penso che proprio sia easy Da cacciarmi fuori Ok Anche altre tre gemmine Non fanno male Mi sa che Mortis e Frank Proprio mi livello Una cosa devastante Raga Ok vai Esci mi altri Mortis Ok Altri Frank Quanti Frank stiamo trovando Frank Sinatra Dai 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 Siamo agli ultimi 18 brawl box Cinque gemme E non so se mi esce Il leggendario Se mi esce un Daryl Io sono contento Ripeto Un Daryl Dai 15 15 raga Siamo verso la fine Dai Secondo me non uscirà più nulla Non uscirà più nulla Però Pazienza Cioè voglio dire Ci siamo già fatti Il nostro Il nostro bel Ho parlato Ho parlato Non so che gufando me la uscivi Io in realtà ti vogliamo assolutamente Daryl Eccolo qui Mancano solo i leggendari Signori Mancano Solo i leggendari Guardiamolo qua Dov'è Dov'è Eccolo qua Daryl Senza skin Ancora all'interno del game Ma pazienza Sei meraviglioso Sei veramente meraviglioso Vamonos Altri bauletti Altri bauletti L'ultimi 10 Signori Ok L'ultimi 3 magari li commento Dai che ho snobbato veramente troppi bauletti In sto video Ok 200 Molto bene Ok Vai 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 Ok Ultimi 3 bauletti Ragazzi ci siamo Allora Terzo ultimo 12 di oro Barley per 6 Shelly per 10 Ok Penultimo 18 di oro Pam per 5 E Jessie per 6 Ok Ultimo baul Veramente ragazzi Allora se mi esce un leggendario adesso Mi faccio i capelli bianchi Che cacchio ne so Non è possibile L'ho detto perché non è possibile Ok Shelly per 6 Penny per 8 E basta Ok E con la bellezza di 2600 di oro Io non mi perdo in chiacchiere Abbiamo un po' di upgrade di Frank da fare Abbiamo 137 Frank Vai Primo livello Secondo livello Terzo livello Che poi in realtà sarebbe livello 4 Non terzo livello Ferre Vabbè Lasciamo perdere Andiamo su Mortis Qua facciamo poco mi sa Facciamo due livelli del nostro Mortis Quindi arriva a livello 3 Vado a tirarmi su una volta Ricojet Che ce l'ho veramente bassino Ma sì dai lo tiro anche su a livello 4 Poi abbiamo Piper da tirare su anche lei Ok No perché l'ho selezionata Poi in teoria c'è il Bombo Da tirare su al 4 Ed eccolo lì Poi abbiamo Dynamite Che qua l'oro comincia a essere un po' tantino Ok Buono Però abbiamo ancora 1800 di oro Quindi possiamo ancora farne di upgrade Allora portiamo i Brawler a livello 7 Abbiamo Brock da portare al 7 E qua però comincia a costicchiare 480 Ok Ecco Brock Poi abbiamo Pam Eccola qui anche lei 480 Pam al 7 E poi andiamo qui con gli upgrade Quelli veramente cazzuti Che non mi posso assolutamente permettere Facciamo giusto Colt magari E direi di sì Facciamo il buon Colt Eccolo qua Colt Ancora un livello ragazzi Poi arriva il 9 E per maxarlo vabbè c'è un po' un casino Però in teoria Siamo veramente messi bene con Colt Ragazzi Andiamo con Frank Io non guardo neanche la modalità Non voglio vedere niente Gioco Gioco così non guardo neanche la mappa Fammi usare Frank Che lo sogno da una vita Per favore Il buon Frank Ok Signori La mia prima esperienza Di gioco Con Frank Ok Vai Frank Sì ok Lui praticamente quando spara Non si può muovere L'avevo già sentita questa cosa Guardalo Ok Guardala lì Mannaggia lei Vai ammazzala Steccala Steccamela Steccala Ste... Grande Che bestione Però stavi per morire Bestione finché vuoi Ma stavi per morire Ok Là c'è una bella Pozioncina Da pigliare Io ne chiamo ancora Pozioncina Ragazzi Abbiate pazienza È una cosa veramente Più forte di me Ma quanto fa male Frank Cioè È una cosa di abbastanza Veramente in tanti Mi avevano parlato Di lui Dicendomi Guarda Fer Che è tedici Che è forte Sì ma quando poi lo provi Vedrai che non si può usare L'attacco in movimento E capirai Capirai E ti pentirai Di tutte le volte Che hai detto che OP Probabilmente è così Come dite voi ragazzi Ma ora Sono ancora in quella fase In cui dico È OP E mi piace un sacco Quindi lasciatemela godere Per favore Ok Allora Adesso cerco di steccarlo Se ce la faccio Opla Eccolo lì Che sei mio Guardalo lì Come sei mio Ciao bello Ciao Ho fatto fuori Teoricamente Uno dei potenziali Nemici Ok E vabbè Io L'ho già livellato al 3 Quindi pretendo Il primo posto In sta partita Lo pretendo Sì ma L'ho parlato Fer Restate zitto Che è meglio Per gli assisti 5 coppie Che van bene Ok Chi mi segue Per la prima volta Oggi Probabilmente Non sa Quanto io stessi Aspettando Brawl Stars Per questo Che in questo video Sono stato così Euforico Ero veramente Contentissimo Ieri Addirittura Ho uscito questo video Mancano 24 ore Ero lì Non ce la facevo più Poi adesso Io spero Logicamente Che sia uscito Magari c'è stato Qualche fail Qualche problema Tecnico Il gioco Non è online Oh mio dio Sarebbe un disastro Ma ragazzi Non me ne frega niente Io continuo a giocare Ormai sono in Nerd Mod E si macinano coppie Ragazzi siamo quasi Sulle 3-5 E si continuano a salire E nulla Io spero che Il video vi sia piaciuto Vi aspetto ovviamente Questa sera Con una live streaming Indovinate su che cosa Questo video E gli ultimi 4 Caricati sul canale Li trovate qua sopra Nelle schede E vi ricordo Che tra poco Saremo a 100.000 iscritti E andremo ad aprire Questo mega pacone Vi ricordo Mezzo metro quadrato Di dimensioni Per vent Ci si becca domani Ciao ragazzi